Ciao a tutti, oggi prepareremo gli struffoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, olio di semi di girasole, uova, tuorlo, zucchero, scorza d'arancia, liquore all'arancia o all'anice, olio di semi per friggere, miele, codette colorate. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova e il tuorlo, il burro, l'olio e il liquore. Ed azioniamo il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4. finire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina e far impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro, coprire con un canovaccio e lasciamo riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo, formiamo adesso i nostri struffoli. Tagliamo dei pezzetti di pasta e formiamo dei cordoncini. Tagliamo dei pezzettini. e andiamole a friggere in abbondante olio. Dopo aver cotto gli struffoli, abbiamo scaldato a bagnomaria il miele, adesso lo verseremo sugli struffoli. e amalgamiamo bene. Trasferiamo in un piatto da portata e spolverizziamo con gli zuccherini. struffoli Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!